Appena una settimana fa, il ministro dell'interno Minniti aveva detto, senza gire di parole, che le ONG che avessero rifiutato di sottoscrivere il codice di condotta sarebbero state tagliate fuori. In altre parole, secondo le intenzioni del Viminale, non avrebbero più fatto parte del sistema dei soccorsi in mare coordinato dalla Guardia Costiera. Nasce proprio su questo punto la tensione tutta interna al governo. Da un lato il Viminale, responsabile del sistema d'accoglienza a terra, dall'altro il Ministero dei Trasporti, da cui dipende la Guardia Costiera. Il soccorso in mare, che dunque ricade tra le competenze del Ministero dei Trasporti e non dell'interno, è sempre un dovere stabilito anche da trattati internazionali cui nessuno può avvenire meno se non si vuole andare incontro a responsabilità penali. E tra gli addetti ai lavori c'è chi sostiene che il codice di condotta voluto da Minniti, e firmato finora solo da tre ONG, non fa altro che ostacolare le operazioni di soccorso. A cercare un punto di mediazione, tra Minniti e Del Rio, il Presidente Gentiloni. Tutto questo mentre, proprio oggi, la nave Golfo Azzurro della ONG Spagnola Proattiva, dopo aver condotto alcune operazioni su coordinamento della Guardia Costiera da Roma, avrebbe ricevuto il rifiuto dalle nostre autorità ad attraccare in un porto italiano. A bordo ci sono donne e bambini in balia di polemiche e contese elettorali.